hey guys buonasera buonasera a tutti prova sa 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 mi sente il microfono mi senti sa 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 ecco mi sentite siamo qui per parlare di una problematica che avvolge il 25 40 per cento degli uomini e la eiaculazione precoce questo problema a me non mi tocca per niente però per tutti quanti quelli che toccano toccato e vorrei dire oltre a essere un problema psicologico perché potrebbe essere un problema psicologico perché secondo me lo stress influisce molto su questa problematica sessuale oltre se non avete detto bene l'articolo oltre il 9 per cento prova sa 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 oh oh mi senti e si il 9 per cento delle persone non si rivolge al medico degli uomini e questo è un problema bene ragazzi se ce l'abbiamo la eiaculazione precoce dobbiamo andare al medico cioè se io ho un mal di stomaco all'almedico è fea se ho un mal di testo all'almedico se io ho un mal di stomaco comunque vorrei sottolinearlo allora ragazzi siccome mi state simpatici vorrei darvi un piccolo consiglio per tutti quanti quelli che soffrono di eiaculazione precoce io ho un segreto devo ammetterlo questa volta lo metto pubblicamente avete presente la formazione del milan steaua del 1988 89 beh io durante l'atto sessuale a volte se sono talmente eccitato come molti di voi inizio a fare giovanni galli mauro tassotti e filippo galli franco paresi paolo maldini carlo ancelotti roberto donadoni ruth gulit frank reigard marco van basten angelo colombo allenatore errico sacchi e sarà passato micchia mezz'ora 45 minuti penso che la donna sarà venuta dai cazzo una figura di merda sicuro non la facciamo dai un auguro a tutti quanti ciao ragazzi see you grazie a tutti